Vuoi venire alla festa di San Valentino con me? Certo, pappagallino! Io con chi ci vado? Io vado da sola, io non so se ci vado. Io andrò con Chuck, io con Mike! Qualcosa non va, Mel? Questa è la mia prima festa in New Doll City e non mi va di andarci da sola. Ma puoi andarci con mio cugino? Povera Mel, è triste di andarci da sola alla festa. Sì, è perfetto, puoi andarci con mio cugino. Ma tuo cugino è di Mountain e io sono timida. Dai, andrai benissimo. Dai, così non sei da sola. Benvenuti al ballo di San Valentino. Wow, che bello, Marine! Ciao, Candy, sei bellissima stasera. Spostati, Jimmy, voglio il buffet! Ah, sì, ok! Sei bellissima stasera. Oh, grazie, anche tu lo sei. Sei un ottimo ballerino, anche tu. Ciao, Marine. Nobu, Nobu? Nobu, che cosa ci fai qui? Mi sono trasferito. Ma tranquilla, non sono tornata... Tornato mica per te. Bene, ora se n'è andato. Possiamo continuare la serata? Ma quando arriva? Tu devi essere la mia accompagnatrice. No, devi avermi confusa con qualcun'altra. Ma Marine mi ha detto che hai capelli bianchi e neri e un vestito a strati. Sì, tu non sei Melanie? Torno subito! Marine, posso parlarti un attimo? Oh, certo, scusami, Chuck. Certo. Perché non mi hai detto che tuo cugino è così figo? Io non sono per... niente per lui. Ma no, andrai alla grande. Vai, ti stas aspettando. Ti va di ballare? Eh, sì. Vai alla grande. E tu? Buonissimo. Marine è stata fantastica. Sì, ma perché ignori così, Jimmy? Lo so che ti piace. Va a ballare con lui e... E là... Tutto solo. No. Va da lui. Ti odio, Desi. Jimmy, ti va di... Ballare con me? Ma è la mia aspetta. Bene, Stellino, il nostro episodio finisce qui. Dicemi cosa ne pensate di questo ballo di San Valentino. Quella è stata la vostra coppia preferita. Ve lo aspettavate che il cugino di Marine fosse così? Che Kenny avrebbe accettato di ballare con Jimmy? E che sarebbe arrivato Nobù? Perché Marine lo guardava così? Iscrivetevi al canale, lasciate like e condividete il video. Vedrò di attivare i commenti. Perché io li ho messi che sono normali, non più destinati ai bambini. Ma comunque non li ha affattivare. Io schiaccio ulteriori informazioni. Mi dice tutto per la sicurezza, bla bla bla, non lo so. Proverò a vedere o chiedo qualcuno. Ciao, vi voglio bene. Ciao, vi voglio bene.